La riforma delle province finisce nel caos. Il governo è stato infatti di nuovo battuto ed entrare oggi a Sala d'Ercole significa entrare in un ring con Crocetta che ha subito un altro duro colpo nello sconto sull'approvazione della tanto attesa riforma. E così dopo il K.O. che ha zoppato l'istituzione delle città metropolitane, ieri è passato a Lars un subavendamento che fissa a 180.000 abitanti la soglia minima per i liberi consorsi, rendendo più difficile formare il libero consorzio di Gela e al quale, come è facile immaginare, tiene molto lo stesso Crocetta. C'è così chi evoca il Vietnam e chi parla di palude, ma di certo c'è che nella lentissima approvazione della riforma, appena due articoli varati in tre giorni e discussione rinviata a martedì, ogni voto fa tenere tutto il governo al colfiato sospeso. Non mancano a tal proposito commenti e reazioni anche nel nostro territorio. Per l'ex presidente della provincia, Fran Cantoci, non si capisce come avverrà il passaggio delle competenze e non si sa quanto la regione intende risparmiare con questa manovra. Inoltre, l'idea che le presenta la nascente consorzio debba essere un sindaco lascia alquanto perplessi. I sindaci, infatti, rilevantoci, hanno già molto a cui pensare. Intanto, in mezzo a tutto questo bailam, c'è chi si chiede che ne sarà della provincia di Ragusa, in quanto, come è noto, dal 16 febbraio, col commissario Carmela Florena scaduto, Gela Delfante è di nuovo senza vertici.